Ti ho convocato d'urgenza perché oggi è San Valentino. Ci vuole una canzone d'amore. Innovativa. Ormai le canzoni d'amore usano sempre le stesse parole. Noi dobbiamo spiazzare tutti. Abbiamo fatto uno studio di settore. E sai qual è la parola meno usata nelle canzoni d'amore? Rogito. Ma cos'è il rogito? Te lo spiegherà il tuo antagonista, il notaio Barbozza. Beh sì, essendo io un notaio, il rogito è un atto notarile. Che sancisce? Che sancisce il passaggio conclusivo dell'iter. Di compravendita di un immobile. Esatto, e infatti noi proprio da qui partiremo per raccontare la nostra storia che sarà... In realtà io mi chiamo Igor Barbozza, sono un attore di fiction, cinema e di altro. Sì sì, solo che il periodo è quel che è, quindi faccio qualsiasi cosa, metto dentro tutto. E beh... Da oggi, quando tutti penseranno a una canzone d'amore, penseranno a una cosa sola. Rogito. Io voglio fare un rogito con te, voglio fare un rogito perché, voglio un posto che sia solo nostro, per averlo è necessario, fare un rogito con te.